J.A. Sapuni Company La mission, l'importanza della differenziazione dei ruori, la proiezione finanziaria, strategie di marketing e sapere progettare anche per il nostro futuro. L'idea è stata quella di realizzare saponi, saponetti, sapone da bucato e sali da bagno frizzanti e profumati. Evolutamente sono stati utilizzati gli essenziali di arance, bergamotto e limone al fine di valorizzare i prodotti della propria terra. Difficoltà ne abbiamo incontrate, dovute sia ai tempi ristretti sia alla scarsa esperienza nello sviluppo e gestione di un'impresa, oltre che al reperimento delle essenze. Ma ci siamo dati da fare. Prodotti utili e nello stesso tempo naturali e biologici, nel rispetto dell'ambiente lungo tutto il ciclo di produzione. Infatti, con la tecnica dell'impasto a freddo, si riducono notevolmente i consumi energetici. Non vengono utilizzati grassi animali, ma solo oli vegetali. E gli unici rifiuti prodotti riguardano le acque provenienti dal lavaggio delle attrezzature usate. Per favore. Per favore. Grazie a tutti. No agli imballaggi contenenti PVC. Vincente è stata la scelta di ottenere dagli scarti della lavorazione le scaglie di sapone per poter ricavare il sapone da bucato. Quindi, niente prodotti di scarto immersi nell'ambiente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.